Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Scusate l'ora, la luce e la macchina Ma non sono mai a casa io quando devo fare queste reaction improvvise Quindi vabbè, fortunavamo qualcosa che li prendeva dietro Ma, come avete visto dal titolo, siamo qua per fare la reaction al debutto degli X1 Premessa, non ho seguito Produs 101 perché non è un programma che seguo Più o meno, pochino Non lo seguo nel senso che io seguo Idol Producer, che è quello della versione cinese Quindi, no Però conosco un carissimo membro dei Victor, che ho anche visto dal vivo E quello degli Updash Eh sì, vabbè, ma tutti gli altri, vabbè Ma è bello anche lui comunque Insomma, e quindi sono curiosa di vedere cosa è successo, cosa hanno combinato La canzone, tutto quanto Anche perché ormai tutta la gente Tutti che debuttano gli X1, gli X1, gli X1 Quindi, vediamo questa roba E perdonate se ci saranno rumori di macchine che passeranno Ma siamo in mezzo ad una tangenziale Via Sono solo una luna No Auguri Auguri e mi vedo che cominciamo male Molto È più piccolo 2004 Cosa? Sì No, via via Non si può essere così pedofili, via via Non ho visto bella gente Ma gli outfit, wow Sì Ma cosa? Ma lui c'è Ah, ok Non so capito Che però negli X1 si può chiamare Wozok C'è il suo nome Non lo uscì Ah, ok Vabbè Non so se gli outfit Eh, auguri poi Sì Ho paura di vedere infatti Mamma L'ho già visto L'ho già visto E c'è uno di The Unit anche Bene Fantastico Ma c'è Eccolo Che schifo Mamma mia Era il mio E' il mio breaker Ne vitto E dal vivo è ancora meglio Ve lo dico Sì Avrei voluto Essere Eh, sì È lui Ah, ok Ma Se non sbaglio è quello della Starship Ma non sono sicura al 100% Sì, però Forse è del più piccolo Come fanno a trovarli tutti così? Cioè Oh, bambino Vedi che vuoi batti È un bambino È un bambino E i capelli di costumi Mi piacciono E quello sembrava cinese Boia E c'è uno degli Unique Guarda, guarda Che schifo Che schifo Eh, tanto Anche Ah, ok Sì Me l'aveva detto Aiuto Aiuto Ma che colore gli hanno fatto Moro Sì, ma Moro tendente al blu lù Esatto Fa riflesso Don Marino Schifo Sì, sì No, ma mi ricordo Quel tipo Era quello che piaceva Entrambe Eh, sì Infatti Ha detto Un buono interessante Madonna Ma questi outfit rossi Ma ce l'ha fatto Sì, guardi Ma ormai sappiamo Che il rosso È andato Guarda, guarda Sì, sì Ma c'è molto Qualcos'altro Guarda Che gli outfit Sono molto Aperti Anche Molto Sì Si dice Sobri Esatto Cioè Non so Disteso Proprio Ma Ma è su una scala Quindi Ma sì Ma no Ma non so Ma sempre davanti Non è tipo Il diviso Non lo so Le cose non sono cambiate In poche parole No, appunto Che è successo Beh, è arrivato Secondo Mi sembra A Produs Beh, devo dire Bel gruppo Nel senso Sì Interessante Vabbè Io conosco solo due La fine Gli altri Purtroppo Non sono informata Quindi Nel caso Mi informerà Oppure Mi potete dire Voi nei commenti Chi sono gli altri Membri Chi è il vostro Bias Se già ne avete uno Ma probabilmente Se avete seguito Produs Conoscete già tutti E ditemi Cosa ne pensate Di questo debutto Se vi aspettavate Qualcosa di più O se vi aspettavate Questa Questa Cosa molto potente E detto Lasciate un like Se questo video vi è piaciuto Iscrivetevi al canale Ci vediamo Alla prossima Ciao Madonna Adorno